Intro Bentornato Goodyear, bentornata Andiamo a vedere come variare le impostazioni in Windows 8.1 Update Questa è una sezione molto corposa che prevederà la spiegazione in diverse lezioni Cosa sono le impostazioni? L'insieme delle operazioni, delle scelte, delle opzioni, dei settaggi che puoi selezionare per eseguire delle impostazioni personalizzate al tuo sistema operativo Una premessa però importante La descrizione potrà avere delle differenze con quelle che vedrai sul tuo sistema operativo In quanto ciò dipende dalla versione del sistema appunto, dalla configurazione hardware ed eventualmente anche degli aggiornamenti che hai installato nel tuo sistema operativo Come accedi a questa sezione? In qualsiasi visualizzazione tu ti trovi, desktop o schermata start, avvia la Churns Bar Semplicemente premendo i tasti Win più C, entrambi contemporaneamente Noterai la barra di destra che presenta vari pulsanti, tra cui appunto impostazioni Cliccaci sopra e accedi ad una nuova sezione Nella barra in alto trovi ancora la scritta impostazioni con sotto alcuni pulsanti Nel mio caso sono start, personalizza, riquadri e guida Il primo non è attivo in quanto già in questo caso mi trovo nella schermata start Personalizza ti consente di entrare nella sezione di personalizzazione per quel che riguarda la grafica, i colori Dalla colonna che si genera, scegli nella sezione in alto la trama della schermata start tra quelle proposte Subito sotto il colore dello sfondo a tinta unita Ed infine quello principale delle linee grafiche che vedi in alto Il tutto lo verifichi in tempo reale, quindi il piacere visivo la pot fare da padrone Tornando indietro, cliccando sulla freccia alla sinistra di personalizza e poi sul pulsante riguadri Entrerai in una zona in cui trovi due cursori che potrai posizionare su sì o su no Ecco qua i due cursori Nel primo caso, attivando questo cursore, porterai in visione un maggior numero di applicazioni all'interno della schermata start Rispetto all'opzione precedente Con la seconda scelta, inserirai tra la lista delle applicazioni che andrai a visualizzare nella schermata start Anche tutta la sezione strumenti di amministrazione Che equivale a quella del pannello di controllo Per un più rapido accesso a tale sezione Cliccando sul pulsante cancella, eliminerai le informazioni personali nella schermata start Se sono presenti Infine, tornando ancora indietro, cliccando sulla freccia alla sinistra di riguadri e di nuovo cliccando su guida Si aprirà un browser e sarai dirottato o dirottata sulla pagina didattica della schermata start Direttamente sul sito della Microsoft Dove potrai ricevere maggiori informazioni sulla stessa Ecco qui, in pratica, uno screenshot della pagina dedicata a questo tutorial Troverai anche dei video che ti aiuteranno nella comprensione Bene, Goodler, vediamo adesso la parte didattica Allora, a seconda di dove ti trovi nella schermata desktop o start Avviando la charms bar, clicca sul pulsante impostazioni Come vedi, può essere leggermente diverso Abbandoniamo questa sezione in quanto le sezioni che sono qui evidenziate Le troverai anche in altra sezione Andiamo adesso a visualizzare la schermata start E facciamo comparire la charms bar Clicchiamo su impostazioni E qui trovi quanto spiegato nella sezione teorica Il pulsante start, come puoi vedere, non è evidenziato in quanto già ci troviamo nella schermata start Cliccando su personalizza Possiamo selezionare il tipo di sfondo che in tempo reale possiamo scegliere In base al piacere che tu vuoi Nella sezione di sotto, tramite un cursore potrai scegliere lo sfondo da impostare nella schermata start E il colore della pagina principale La variazione può essere in tempo reale Variando anche la trama In base a quale trama sceglierai Potrai variare in tempo reale alcuni parametri della colorazione Tutto adattato secondo le linee guida dei colori che tu più preferisci Torniamo indietro in questa sezione Andiamo a scegliere dei quadri In questa sezione tu puoi variare la posizione di due cursori Nel primo caso potrai implementare il numero di applicazioni che si visualizzeranno nella schermata start Posizionandolo su no, ovviamente verrà ridotto Ecco un esempio abbastanza immediato Come puoi vedere qui c'è un certo numero di applicazioni Andandole ad incrementare Le portiamo su sì Il numero di applicazioni è incrementato E poi posizionando questo selettore Da no a sì Potrai far sì che si visualizzi anche la sezione Di strumenti di amministrazione Eccola qua Espressa Torniamo alla schermata con la charms bar E andiamo a visualizzare quindi questi riguati Adesso posizionando su no Andrà a scomparire questa sezione Ecco qui Che non è più presente strumenti di amministrazione Il tutto per agevolare Se vuoi La possibilità di accedere con più rapidità A queste impostazioni Il pulsante cancella Va a rimuovere le informazioni personali All'interno dei riguardi Qualora ce ne fossero Quindi sarà sufficiente cliccare su cancella Per completare l'operazione Tornando indietro e cliccando Sul pulsante guida Si aprirà un browser E si presenterà La schermata didattica del sito della Microsoft Che riguarda La schermata start Ecco qua Questo è l'indirizzo Che poi ti riporterò anche A margine di questo tutorial E come puoi vedere All'interno di questa guida Ci sono delle descrizioni E anche dei video Che possono essere utili Ad una migliore comprensione Di come gestire Questa schermata start Bene Per il momento mi fermo qui E nella prossima lezione Continuerò questa lunga sezione Delle impostazioni Però Accedendo alla sezione Modifica impostazioni PC Ora come sempre Un forte saluto Ciao a presto Da Carlo e dalla prossima Ciao a presto 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 Ciao a presto